Sindaco di Chieti, Diego Ferrara, dopo qualche giorno di pausa, domani riprenderà la campagna vaccinale a Chieti? Sì, domani, lunedì, riprenderà la campagna vaccinale dopo due giorni di ristoro fisico e psicologico per tutti i volontari che partecipano a questa campagna, quindi le associazioni di protezione civile, gli amministrativi, i percettori di reddito di cittadinanza, medici, infermieri e tutti. È giusto che si siano dovuti fermare due giorni perché il carico di lavoro e di responsabilità è enorme. Domani si rinizia a pieno ritmo, sempre al palazzetto di Colle dell'Ara, con sei linee di lavoro aperte e una media di vaccinazioni che si aggira giornalmente intorno alle 700 inoculazioni. Sindaco, ricordiamo anche che è possibile fare addirittura anche l'antinfluenzale insieme al vaccino anti-Covid, ma soprattutto non soltanto le terze dosi, anche chi volesse per la prima volta vaccinarsi. Sì, sì, senz'altro, ma da sempre, dall'inizio di questa ulteriore campagna dall'autunno, quando è cominciata, abbiamo detto che è possibile fare anche l'antinfluenzale insieme e tutti coloro che vengono a vaccinarsi non sono tutti solo per la terza dose, ma anche per chi ha deciso di vaccinarsi per la prima volta e anzi, questi sono ancora di più i benvenuti. Prenotazione sì o no? Prenotazione sì, purtroppo sì, perché non si riesce, non riusciamo più, sia per quanto riguarda la ASL che il Comune, a gestire gli enormi flussi anche dei non prenotati. Finora abbiamo limitato a 100 non prenotati, chiaramente non rimandiamo indietro nessuno, per l'amore di Dio, però la prenotazione io prego di farla perché regolarizza meglio l'afflusso e l'entrata al palazzetto.